Peppe Giacuinto in veste di rappresentante dell'Isola che non isola che insieme a Feder Consumatori ha promosso questo importante ricorso per favorire l'accesso alle navi care, ma da parte delle persone con disabilità. Peppe, a che punto è la situazione e soprattutto che cosa ci dobbiamo aspettare? Intanto martedì c'è stata questa udienza davanti al giudice Sica che ha ascoltato entrambe le parti. C'è stata una dichiarazione e una testimonianza molto efficace di Milena Aurelio sulla questione. Era presente la care, ma attraverso un proprio legale con ovviamente il responsabile dell'armamento. Il giudice ha mostrato particolare sensibilità verso la questione perché ovviamente è una questione seria. Si tratta di garantire, come dicevi tu, la pari dignità rispetto a tutti i cittadini e alle persone disabili che vogliono accedere ad un trasporto marittimo che per noi è necessario, indispensabile, quindi gli dobbiamo delle risposte. La politica si è mostrata fino ad ora abbastanza sorda, quindi ci siamo purtroppo ricorsi alle vie legali. La fede del consumatore in aula, attraverso il Presidente Stronaiolo, ci ha dato una grossa mano. I legali hanno preparato questo ricorso e quindi mi pare che l'azione sia stata molto efficace. A settembre, l'inizio di settembre, avremo la sentenza e quindi ne sapremo certamente di più in merito. Appare un paradosso che navi destinate al consumo, diciamo allo svago, come quelli da crociera, abbiano tutte le strutture pienamente accessibili, mentre navi che si devono prendere per necessità, quali quelle che operano ad esempio nel Golfo, non abbiano queste strutture. Esistono delle possibilità concrete di muoversi finalmente in piena libertà? Sì, esistono perché la normativa è anche abbastanza datata, diciamo del 2005, la normativa sia nazionale che europea che impone e che prescrive ovviamente ai mezzi di trasporto di adeguarsi per consentire alle persone che hanno difficoltà motori di accedere ovviamente alle strutture superiori. Mi pare che qui c'è una vacanza abbastanza seria anche da parte della società Canemar, sono 13 anni, è concessionario regionale per il trasporto marittimo, quindi i code di soldi pubblici. È ovvio che ha avuto tutto il tempo per adeguarsi, l'ha fatto solo al momento con due navi, di cui una destinata a Capre e una gira a rotazione qui sulla linea Comprocida, garantendo una sola partenza giornaliera mattutina, ma in effetti è un po' poco rispetto a quelle che hanno poi il resto dei cittadini in termini di offerta di trasporto marittimo. Quindi è una battaglia di civiltà, indubbiamente, è una battaglia che va combattuta, che va sostenuta perché ritengo che non sia solo, ovviamente è una battaglia che riguarda solo i disabili procidani, ma anche ovviamente i tanti ospiti che vengono qui e che hanno necessità di muoversi in piena libertà. La stessa cosa poi ovviamente faremo per il trasporto terrestre perché anche lì abbiamo dei ritardi inaccettabili ormai.